Il referendum sulle concessioni alle trivelle entro le 12 miglia nei nostri mari come punto di partenza per una riflessione sulle scelte del governo in materia energetica e la propensione nel finanziare e autorizzare piani considerati strategici senza giusta informazione e senza coinvolgimento della popolazione. È il caso dei progetti per la ricerca di idrocarburi che interessano Castelverde, Tricolo, Gussol, Fonte Vivo e Vescovato e soprattutto degli stoccaggi di metano. Sono attivi due stoccaggi di metano, Serniano e Ripalta Cremasca e un terzo stoccaggio è in costruzione a Bordolano. Serniano stocca 2 miliardi di metri cubi di metano, Bordolano stoccaggio dovrebbe stoccare 1 miliardo e 200 milioni di metri cubi. Sono tutti e tre, Serniano, Ripalta e Bordolano, sopra sorgenti sismogeniche attive e l'attività di stoccaggio può provocare sismi di magnitudo 3.0 dal fondo pozzo, proprio secondo le dichiarazioni del Ministero dell'Ambiente. Gli impianti che sono in funzione nel nostro paese, tranne Collalto e Corte Maggiore, sono privi del piano di emergenza esterna. Bordolano non ha la rete sismica di monitoraggio che dovrebbe essere realizzata e controllata anche da un ente pubblico. C'è anche la voce del Comitato Ambiente e Salute Lodigiano, nato nel 2012, quando la popolazione è venuta a conoscenza del progetto di costruzione di uno stoccaggio gas a Corneliano Lodigiano, quando le concessioni erano già state rilasciate. Tutti i mass media parlavano di uno stoccaggio che doveva accogliere circa un milione di metri cubi. Siamo stati i primi a denunciare il fatto che in realtà i metri cubi non erano di fatto un milione, bensì 2 miliardi e 200 milioni. Una piccolissima differenza, parecchi passi sono stati fatti, quello più eclatante è stato poi quello di depositare un corposo faldone presso la procura della Repubblica di Milano perché abbiamo riscontrato i dati falsi. Noi abbiamo fatto un'opera di denuncia e attinente poi si attaglia perfettamente alla cronaca dei nostri giorni. Noi siamo per una politica delle rinnovabili, siamo per una politica del futuro, noi pensiamo che soprattutto in questo momento bisognerebbe mettere a fattore comune tutte le intelligenze e cercare di traguardare in avanti, guardare verso gli impegni che poi paradossalmente sono stati presi anche dal nostro governo a Parigi con la COP21. Quindi da una parte si firma dicendo che bisogna sviluppare le rinnovabili e lasciare le fonti fossili là dove sono, sotto terra, e dall'altra parte poi sulla politica energetica nazionale si percorre la strada diametralmente opposta, sempre che poi di politica energetica si possa parlare perché di fatto qua si stanno dando, concenendo autorizzazione a tutti sostanzialmente in assenza di un piano strategico.